Dopo l'antipasto di Coppa Italia, tutt'altra adrenalina per Cristiano Lucarelli alla vigilia della sua prima partita di campionato sulla panchina del Messina. Il tecnico Livornese, intenzionato, stante la squalifica di Pozebonna, a proporre Madonia nel ruolo di falso 9, supportato sulle due fasce da Milinkovic e Ferri, scalpite in vista del match di domani con la casertana che il Messina deve vincere a tutti i costi per spezzare la pesantissima serie di tre sconfitte consecutive che hanno costretti i peloritani nei bassi fondi della classifica, due punti dalla coda. Sicuramente domani è una partita completamente diversa rispetto a quella di mercoledì in Coppa Italia. Affrontiamo una squadra oltretutto forte, con delle individualità importanti per la categoria e quindi servirà sicuramente intanto aver recuperato le forze dopo lo sforzo di mercoledì e poi di avere quella serenità mentale, quella spensieratezza per affrontare questa partita, perché è una partita difficile. dovremmo cercare di, qualsiasi cosa succeda, di mantenere la calma, la serenità di giocare e di voler fare la partita, perché secondo me abbiamo capacità per poterlo fare. C'è stato il tempo in questi due giorni di ideare qualche variante tattica e poi l'enigma della vigilia, almeno per noi giornalisti, la sostituzione di Pozebonna? Sì, abbiamo provato un paio di soluzioni che avevamo già pensato appena arrivati, perché abbiamo preparato contemporaneamente sia la partita di Coppa Italia che questa con la Casertana, sapendo di questa assenza in attacco. Abbiamo provato un paio di soluzioni, potrebbe essere che le partiamo in un modo e poi cambiamo e adottiamo l'altro, oppure speriamo che da subito dia dei risultati quello che proporremo. Ci siamo presi un paio di soluzioni. Madonia falso nuove è un'ipotesi? Madonia falso nuove potrebbe essere un'ipotesi come ce ne possono essere altre.